Lettura del Vangelo secondo Luca In quel tempo, i genitori del Signore Gesù si recavano ogni anno a Gerusalemme per la festa di Pasqua. Quando egli ebbe dodici anni, vi salirono secondo la consuetudine della festa. Ma a trascorsi giorni, mentre riprendevano la via del ritorno, il fanciulo Gesù rimase a Gerusalemme senza che i genitori se ne accorgessero. Credendo che gli fosse nella comitiva, fecero una giornata di viaggio e poi si misero a cercarlo tra parenti e conoscenti. Non avendolo trovato, tornarono in cerca di lui a Gerusalemme. Dopo tre giorni, lo trovarono nel tempio, seduto in mezzo ai maestri, mentre li ascoltava e li interrogava. E tutti quelli che l'udivano erano pieni di stupore per la sua intelligenza e le sue risposte. Al vederlo, restarono stupiti e sua madre gli disse «Figlio, perché ci hai fatto questo? Ecco, tuo padre e io, angosciati, ti cercavamo». Ed egli rispose loro «Perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del padre mio?» Ma essi non compresero ciò che aveva detto loro. Scese dunque con loro e venne a Nazareth e stava loro sottomesso. Sua madre custodiva tutte queste cose nel suo cuore e Gesù cresceva in sapienza, età e grazia davanti a Dio e agli uomini. Facce bene, amici, ci ritroviamo a commentare la liturgia festiva secondo il rito ambrosiano e questo rito prevede in questa ultima domenica di gennaio la festa della Sacra Famiglia. E ci viene presentato il modello di ogni famiglia cristiana e di ogni comunità familiare, quella di Nazareth, Giuseppe, Maria, Gesù, che si recano assieme ad altri a Gerusalemme per la festa di Pasqua. Ritornano indietro, pensano che il bambino sia tra gli altri bambini in un posto ben preciso, dedicato, riservato ai bambini, in questa carovana di pellegrini che si spostava da nord a sud e da sud a nord e proseguono il viaggio per circa un giorno, poi non trovano il bambino e dopo tre giorni lo ritrovano. Ecco, è significativo questo numero tre perché l'Evangelista non ha voluto semplicemente riportarci un quadro dell'infanzia di Gesù Cristo, ma ha voluto collegare questo fatto, che era rimasto nella memoria probabilmente di Maria, perché nessun altro, Giuseppe era già morto, non compare più nel Vangelo, compare solo in Maria, che questo episodio aveva suscitato perplessità e aveva scomposto la vita di questa sacra famiglia. Ma, dicevo, questo particolare tre ci collega ad un altro momento storico della vita di Gesù Cristo, ad un altro periodo significativo. Dopo tre giorni il Signore risolgerà. Ecco, è come se dicesse l'Evangelista Luca, presentando Gesù Cristo, che discuteva nel Tempio con i maestri, è come se l'Evangelista Luca dicesse, fin dalle prime battute del suo Vangelo, che questo Gesù di Nazareth era un personaggio particolare, era il figlio di Dio. Infatti lui si proclama tale, anche se in un modo velato, rispondendo alla Madonna, ma non sapevate che dovevo occuparmi delle cose del Padre mio. Ma procediamo con un certo ordine. Ci chiediamo innanzitutto che significato può valere questo brano del Vangelo e questa vicenda un po' travagliata della Sacra Famiglia per noi adesso. Innanzitutto constatiamo che anche dentro la Sacra Famiglia c'erano dei problemi, come in ogni comunità cristiana, come in ogni famiglia piccola chiesa domestica. Fino a quando saremo pellegrinaggi su questa terra, ci saranno sempre dei problemi. Ma la via di uscita è copiare quello che è il modello della Sacra Famiglia, cioè imitare quelle che sono le modalità, lo stile per uscire dei nostri problemi quotidiani. Oggi più che mai questo istituto, questa piccola comunità sociale e cristiana, che è la famiglia, che è il matrimonio, il matrimonio e il sacramento, la famiglia in genere, questo istituto è messo in crisi, si trova in un periodo di difficile gestione. Abbiamo sotto i nostri occhi persone, amici, cari, che si sono sposati in chiesa o in comune, ma che si separano, che hanno promesso di condividere la vita fino al termine, una fedeltà totale, completa, e poi dopo qualche anno e magari qualche mese si ritrovano una a destra e una a sinistra. Allora per noi il riferimento alla Sacra Famiglia diventa importante perché ci istruisce, ci ammaestra su come noi dobbiamo e come noi dobbiamo affrontare i problemi che ci sono sempre ovunque, sulla faccia della Terra. Anche tra Gesù, Maria e Giuseppe ci sono state delle incomprensioni. Maria e Giuseppe si trovano angosciati, cioè presi da angoscia, un momento drammatico per loro, perdere il proprio figlio. E che cosa risponde Gesù con questa risposta lapidaria che fa loro capire che ci sono altre cose, che lui deve fare altro, che la cosa più importante è fare la volontà del padre, essere nelle cose del padre, essere nella vita del padre. Dopo questa risposta che cosa succede? Maria non contesta, si presenta pensosa, accoglie la risposta e meditava nel suo cuore queste parole che il Signore aveva dato a lei e al marito Giuseppe. E poi il Vangelo si conclude dicendo che ritornati a Nazareth Gesù era sottomesso a loro e cresceva in sapienza, età e grazia davanti a Dio e davanti agli uomini. Allora, qual è l'insegnamento che dobbiamo raccogliere? Questo, che non possiamo gestire bene i nostri rapporti al di fuori e al di dentro, di ogni comunità, di ogni piccola comunità, qual è la famiglia, non possiamo gestire bene e vivere serenamente i nostri rapporti se non facendo riferimento alla volontà del padre. E' questo l'insegnamento, e' questa la pista da battere, e' questo lo stile con cui noi dobbiamo affrontare le situazioni piacevole e spiacevoli, difficili e drammatiche della nostra vita dentro e fuori la famiglia. Il riferimento a Dio, il fare la volontà del padre, fa crescere Gesù in sapienza, età e grazia, fa pensare Maria, rende pensosa Maria che approfondisce e medita questa parola del figlio. Allora, in questa situazione travagliata in cui ci troviamo, in questa società dispersiva che tende alla disintegrazione, che tende alla frantumazione, in questo momento in cui il nucleo familiare è messo in crisi per tantissime motivazioni che non stiamo a riprendere adesso, dal Vangelo scaturisce una luce che illumina e diventa maestra del nostro vivere qua giù sulla terra. Impariamo a fare riferimento a Dio, a cercare la volontà del padre e tutto si ricomporrà. Face bene amici a risentirci alla prossima domenica. Dio,